Allora ragazzi, prima di iniziare questo video voglio introdurvi questa nuova serie, tre recensioni in un video di giocatori che potete permettervi tutti. Consigliatemi dei giocatori qui sotto per il prossimo episodio di questa serie, ovviamente le recensioni di giocatori costosi continueranno normalmente. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui con la recensione di Christian Teglio, Bonnie Man of the Match e Lallana If per iniziare questa nuova tipologia di recensioni. Giocatori che potete, più bene o male, aggiudicarvi tutti, prezzi abbastanza bassi. Partiamo da quello che mi è piaciuto di meno di tutti, che sto parlando di Christian Teglio. Questo giocatore mi ha deluso, l'ho pagato poco, 10.500 crediti, però mi ha deluso veramente tanto. Un giocatore che comunque, anche se era versione IF, cambia veramente poco o nulla dalla sua versione NIF. Un giocatore ancora molto incompleto, molto incompleto in tanti reparti come il dribbling, causa le tre stelle skill molto probabilmente, nel tiro e nel fisico assolutamente. Anche il passaggio non mi è piaciuto, non mi è piaciuto in generale questo giocatore. Non sto a dilungarmi troppo su questo giocatore, che comunque non vi consiglio. Compratevi la sua versione NIF, che cambia assolutamente nulla. La velocità invece è buona ovviamente, 90 di accelerazione e 90 di sprint speed. Passiamo subito al secondo giocatore, dove ho già molte più cose da dire. È la lana IF, un giocatore sicuramente nel suo piccolo completo, fa sempre la sua bella figura in campo, con assist e qualche volta anche con un gol. 74 di velocità, che forse è l'unico contro di questo giocatore insieme alla forza fisica, che è praticamente nulla. 5 stelle piede debole, 4 stelle mosse abilità, 77 di tiro, 88 di passaggio ragazzi. 86 di dribbling, 80 di dribbling scusate. Un giocatore comunque completo, non è non aspettato di sicuramente un De Bruyne Man of the Match, ma comunque la sua bella figura la fa sempre, per comunque pochi crediti. Ha avuto anche una versione upgrade, da 79 è passato 80, questa è la sua versione IF. Potete aggiudicarvelo sui 20.000 crediti. Passiamo adesso al giocatore ragazzi, al giocatore, Bonnie Man of the Match. Quando ho scelto questo giocatore per far la review ho detto, ma 74 di velocità non sarà un grandissimo giocatore, dovrò basarmi su lanci, cross e via dicendo. Quei 74 di velocità, unito all'88 di forza fisica, rendono questo giocatore un carro armato. Veramente un carro armato. Giocatore perfetto, 85 di tiro, butta giù la porta ragazzi, butta giù la porta. 76 di dribbling che comunque per una prima punta non è neanche tanto male. 4 stelle piede debole, 3 stelle skill, assolutamente giuste. Gli work rates sono medio-basso, buono anche il posizionamento, 80 sulla carta. La velocità scusate si divide in 70 di accelerazione e 78 sprint speed, quindi se lo lanciate ci arriva con l'88 di fisico ragazzi, ve li butta giù tutti. I rigori quando li tira fa comunque la sua parte perché comunque ha 80 di rigore. Il passaggio non possiamo sicuramente aspettarci un grandissimo passaggio come può essere quello di Lallana, ma ha 92 di forza tiro. E 70 di passaggio corto, quindi comunque 1-2 veloci ce la fa per poi partire e farsi lanciare. In sostanza, mi sono piaciuti i boni, i men of the match, ve lo consiglio assolutamente, un carro armato veramente. Lallana If, che comunque non è un giocatore eccezionale, ma comunque fa la sua parte per quei pochi crediti che lo pagate. Non vi consiglio invece assolutamente Cristian Tellio, anche se vale solo 10.000 crediti. Compratevi la sua versione NIF, se volete una portoghese. Mi è piaciuta solo la velocità di questo giocatore. Adesso vi metterò pro e contro più o meno veloci di questi giocatori. Noi ci vediamo alla prossima. Consigliatemi, consigliatemi, consigliatemi altri tre giocatori da recensire di costo medio-basso. Arriveranno comunque anche le recensioni di giocatori molto costosi. Arriverà anche un pack opening dei sei anni della EA Ultimate Team. Lo sto registrando, sto facendo più o meno aprire i pacchetti speciali che escono ogni giorno. Vedrò di fare un bel collage di tutto e caricarvelo la settimana prossima. Ciao a tutti!